Turismo, chi viaggia di più in Europa secondo Eurostat? Ne parliamo, poi parliamo anche del Ministro Tajani che fa il punto sul turismo delle radici presentando Italia Card e quanti comuni hanno partecipato al bando dei comuni delle radici sotto i 6.000 abitanti e poi parliamo ancora di OpenAI che con il modello Sora passa dal testo al video ed è una cosa spettacolare. Ma come sempre, come al solito, di tutto questo e di molto altro ne parliamo dopo la sigla. Bentornati in Land Explorer, il video podcast che parla di cultura, turismo, digitale e impresa mettendo il centro territorio. Io sono Samuel Piana e vi do il mio personalissimo benvenuto in questa nuova puntata di lunedì 4 marzo 2024. Bene, parlavamo subito del mondo dell'Europa e di come l'Europa viaggia. Beh, Eurostat con i dati del 2022 ci racconta un'Europa a più velocità, se vogliamo un po' a macchia di lopardo con tante tante differenze fra stagliature al suo interno. Ma per comprendere ancora meglio di cosa sto parlando passiamo sul desk. Ed eccoci qua, come potete vedere l'immagine magari la ingrandiamo anche un pochino in più così è più leggibile. Vediamo la mappa di riferimento dei viaggi all'estero e possiamo notare che nel 2022 ci sono stati tutta una serie di paesi che hanno viaggiato, che hanno lavorato intensamente. Sicuramente non si è raggiunti ancora i livelli pre-pandemia. Ricordiamoci che stiamo parlando a marzo 2024 su dati del 2022. Però è chiaro che l'era pre-pandemica del 2019 potremmo dire erano 100 milioni i viaggi in più. A guidare il paese dei viaggiatori è sicuramente la Francia, da giudicarsi quindi il primo posto nel turismo europeo con una classe d'età molto avanzata, più di 65 anni e parliamo di circa 61,3 milioni di viaggi, un quarto del totale. Al secondo c'è la Germania che fondamentalmente raggiunge con un'età compresa tra i 25 e i 35 anni ben 44,3 milioni di viaggi fatti da giovani tedeschi. Poi abbiamo la Spagna che però si posiziona sicuramente al terzo posto ma con numeri assai diversi. L'Italia invece è al sesto posto, possiamo vedere che in totale sono 47 i milioni di viaggi effettuati con cittadini che hanno un'età dai 15 anni in su. Abbiamo 10,6 milioni di spostamenti e gli italiani che si muovono di più sono tra i 45 e i 55 anni. I giovani ne fanno appena 6,3 milioni e quindi vuol dire che sono sette volte in meno rispetto ad esempio ai giovani tedeschi e questo ci dovrebbe dare un campanello d'allarme. Perché? Perché i giovani che non si muovono vuol dire che non hanno le risorse economiche per farlo da una parte e sicuramente non si arricchiscono della conoscenza delle altre realtà. E poi abbiamo ovviamente un dato generale che comunque rimane negativo perché solo il 38% dei residenti dell'UE di età pari o superiore a 15 anni non ha partecipato al turismo. Quindi vuol dire che non ha le possibilità o non può in un qualche modo diciamo colmare il gap relativo al viaggio. La percentuale più alta di persone che non ha partecipato al turismo e parliamo del 55% si registra tra chi ha più di 65 anni. I dati però non sono solo negativi perché ovviamente chi non si è mosso nella terza età si è mosso all'interno del proprio stato, del proprio paese e quindi questo vuol dire creare una destagionalizzazione interessante. E ovviamente l'andamento dei viaggi per i giovani europei dei 25-35 anni con almeno una notte trascorsa fuori casa si scopre che non è ancora stato raggiunto il livello pre-pandemia. Qui voglio tornare un attimo in presa diretta perché il tema del viaggio ovviamente è determinante per un arricchimento culturale, è un motore economico per gli Stati e forse è ora di incentivare determinati viaggi. Sicuramente c'è da ragionare su un viaggio più sostenibile. Ricordiamo che il 4% delle emissioni globali di CO2 in atmosfera deriva dal mondo dei viaggi e dei trasporti, quindi un turismo sicuramente che deve cambiare passo, più sostenibile, più attento alle comunità e i dati però rappresentati da Eurostat ci dicono che alcuni processi come ad esempio appunto una destagionalizzazione all'interno di ogni Stato attraverso dei giusti incentivi alle giuste realtà, diciamo ai buyer personas giusti, ovviamente per buyer personas qui lo semplifico molto legandolo all'età e alle provenienze, però si potrebbe fare uno studio magari un pochino più strutturato in modo tale da poter dimostrare che gli incentivi ben calibrati potrebbero ridistribuire in maniera più equilibrata i flussi e quindi rendere le destinazioni più gestibili. Su questo tema tra l'altro si aprirebbe il vaso di Pandora perché ovviamente il tema della sostenibilità sociale produce anche una rivisitazione del turismo sotto forma di flussi economici, quindi il tema è grosso, sicuramente Eurostat ha fatto un ottimo lavoro, c'è anche da dire che i dati del 2023 dovrebbero essere diversi e quelli del 2024 si spera, visto che è il grande momento, siamo all'inizio dell'anno, c'è ancora molto da fare e da promuovere per le destinazioni e in particolare i primaverili, estivi ed autunnali, quindi ci aspettiamo delle situazioni diverse e ovviamente ci sarebbe bisogno anche di una misurazione più puntuale più pragmatica legata all'anno in corso, al massimo all'anno precedente e non a due anni prima. Per quanto riguarda questo tema siamo arrivati all'analisi, ovviamente vi lascio il link in descrizione, come sempre vi ricordo anche di seguirci sostanzialmente su YouTube, di iscrivervi al canale se questi temi vi interessano, vi appassionano oppure scriveteci, commentate che cosa vi piacerebbe che raccontassimo in questo canale. Il secondo tema che voglio affrontare oggi è sempre legato al turismo delle radici, stiamo facendo un focus di tanto in tanto sul tema perché effettivamente è un momento importantissimo, c'è un'attenzione direi quasi maniacale verso gli italodiscendenti dopo anni che sono stati un po' dimenticati e quindi l'italodiscendente che tra l'altro vuole ritrovare le proprie radici, vuole riconnettersi con la madrepatria, proprio nel 2024, nell'anno italiano delle radici è l'occasione, nell'anno delle radici italiane è l'occasione apposita per riconnettersi, è il primo passo di un lungo periodo dove speriamo che i nostri connazionali vengano a trovarci e soprattutto siano i primi ambasciatori dei nostri prodotti made in Italy. Ma anche qui le linee organizzate dal Ministero degli Estri insieme al Ministero della Cultura e il Ministero del Turismo sono molteplici, in questo caso nel venerdì scorso, primo marzo è avvenuto qualcosa di molto interessante perché il Ministro Tajani vuole aggiornare e fare il punto di volta in volta sulle varie linee. In particolare, qui mi riporto sul desk e anche qui ingrandisco un pochino la schermata, posso ricordarvi che praticamente c'erano due linee specifiche per il turismo delle radici, almeno attivata ad oggi, uno legato al cosiddetto bando delle idee dove fondamentalmente sono nati dei gruppi regione per regione, l'End Explorer ha il piacere di collaborare con il gruppo piemontese, quindi questi gruppi lavorano sulla creazione di pacchetti di esperienze turistiche ma anche lavora su una linea che in realtà è condivisa con il secondo, diremmo così, ramo voluto appositamente dal Ministro Tajani che è quello di rendere protagonisti i comuni delle radici, cioè i sindaci con comuni sotto i 6 mila abitanti, ma anche qui il Ministro ha voluto sottolineare come anche per i comuni sopra i 6 mila abitanti si sta operando in maniera trasversale, diciamo di sponda per rendere più facile un lavoro di squadra fra le comunità e i comuni limitrofi, in modo tale da poter far conoscere anche i borghi meno frequentati dai turisti o meno sulla bocca di tutti potremmo dire, in particolare possiamo notare che sono 822 i comuni che realmente hanno validato la loro proposta, il loro evento per il turismo delle radici, l'investimento era di circa 5 milioni di euro diviso in circa 850 progetti, quindi è sostanzialmente il 15% per quanto riguarda appunto questa misura per i comuni sotto i 6 mila abitanti, ma sappiamo, lo ha definito proprio il Ministro durante la conferenza stampa, quanti anche comuni sopra i 6 mila abitanti hanno voluto comunque mostrare le loro progettualità al Ministro partecipando e sapendo comunque che sarebbero stati esclusi in questo primo bando, ma si spera appunto di poter, il Ministro spera di poter allargare le maglie di questo finanziamento in modo tale da poter dare degli interventi. Tra l'altro all'interno di questa misura viene richiamato anche il famoso passaporto delle radici che oggi sappiamo conoscersi in cosiddetto Italia, nella cosiddetta card di sconti Italia Card. Italia Card è un'occasione per tutti i privati che vogliono mostrarsi attenti ai nostri connazionali creando dei benefit per loro, possono essere carte di sconto economico ma possono essere anche benefit di altro tipo. Giusto un piccolo spoiler perché il Ministro comunque lo ha presentato velocemente rimarcando comunque che la gran parte dell'incontro con i giornalisti era rivolto a rappresentazione di Italia Card che ha all'interno partner anche di livello nazionale ed internazionale tra i primi accordi c'è Ferrovie dello Stato ma anche tutta una serie di miriade di grandi e piccole e piccolissime aziende che offrono servizi turistici ma anche visite degustazioni piuttosto che sconti per l'enogastronomia ma non solo e qui vi mostro velocemente italia.com avremo tempo per parlarne ma potete vedere che la piattaforma ormai è attiva pronta a lavorare e di queste ovviamente ce ne sono una copia regionalizzata e specificata e specializzata per ogni regione quindi nei prossimi settimane vedremo questa piattaforma in tutte le occasioni ufficiali e non per promuovere appunto questa tipologia di turismo che non è nuova come abbiamo sempre detto ma che ha la giusta finalmente la giusta attenzione chiudiamo questa nostra chiacchierata di oggi con un altro esperimento sempre legato al mondo dell'intelligenza artificiale delle tecnologie al servizio del mondo diciamo così turistico e vi voglio portare su instagram perché voglio portarvi su instagram perché open ai tra le sue miriedi di plugin estensioni quindi la famosa chat gpt per chi non conosce l'azienda che fornisce chat gpt ovvero open ai vi dico che il suo prodotto più conosciuto è l'intelligenza artificiale chat gpt dove basta chattare con questa intelligenza artificiale trovare sostanzialmente titoli piuttosto che descrizioni piuttosto che correzioni di compiti o compiti da fare questo lo dico solo velocemente anche per i miei allievi no sfruttatela per rendervi utile per migliorarvi su alcune cose ma non copiate brutalmente la gpt ma è chiaro che il mondo è in pieno è in pieno sviluppo questa intelligenza artificiale piena di rivoli anche per certi versi impensabile allora vi porto sul desk perché l'operazione fatta con l'intelligenza appunto di open ai legata ai modelli video chiamata sora a qualcosa dell'incredibile ed eccoci qua ve la mostro ancora una volta ingrandendo un po lo schema e gustiamoci questo mini video come potete vedere è stato ricostruito questo volo di drone semplicemente da un testo e allora prepariamoci a un cambio di paradigma anche in ciò che vediamo in ciò che prossimamente sarà realizzabile e contestualizzabile anche da una intelligenza artificiale e qui voglio tornare di nuovo in presa diretta perché beh immaginatevi che un po di anni fa c'è ancora oggi un gioco che si chiama second life che ha ricostruito in 3d online interi paesi intere città dove ambientare le storie del personaggio dell'avatar con cui io ognuno di voi che mi state ascoltare può giocare e avere l'opportunità di superare l'idea semplicemente di una ricostruzione 3d un po fredda ma ricostruire interi panorami attraverso le immagini che vengono immesse negli stessi utenti giocando sulla user generated content e con anche i problemi però di copyright ma riuscire ad arrivare a un risultato come quello che abbiamo visto anni fa era cosa abbastanza impensabile soprattutto per computer per usi diciamo domestici o professionali senza avere dei professionisti appositamente strutturati per video editing per volo di droni eccetera e questo open ai lo ha fatto sostanzialmente in pochi minuti si è messo un testo e lui ha prodotto questa situazione beh direi che è tantissimo e se questo è solo l'inizio prepariamoci per grandi grandissime novità bene direi che per oggi video podcast abbastanza veloce non mi rimane che ricordarvi dove mi trovate quindi il sito internet youtube iscrivetevi mi raccomando voglio arrivare ai mille iscritti quindi datemi una mano condividete il mio canale mettete mi piace a questo video condividetelo e poi mi trovate su facebook instagram linkedin e chi più ne ha più ne metta per tutto il resto commentate chiedete proponete anche argomenti e non rimane che darci appuntamento alla prossima settimana